Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono TennoCookie e oggi sono su Warframe, per me sei il Fashion Frame di Inaros Ramses Spero che vi piaccia e godetevi il video Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi lascio un pollicione su e iscriversi al canale perché ancora non è iscritto Commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi Ciao 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 Ciao